Tutti i vaccini oggi sono efficaci rispetto a tutte le varianti, in particolare per quanto riguarda la malattia e le forme gravi di malattia e questa è una meravigliosa notizia. Lo dice in maniera chiara la dottoressa Ricci, aggiungendo che seguire l'andamento delle varianti è fondamentale soprattutto nella fase delle vaccinazioni. Oggi non ci sono preoccupazioni reali, anche la variante Delta, che è una variazione dell'Indiana, è tenuta sotto controllo dai vaccini. La variante Delta o indiana è nata in India ma si è sviluppata moltissimo in Inghilterra e se voi andate a vedere le curve di crescita di questa variante in Inghilterra sono effettivamente molto preoccupanti. Si tratta di una variante molto più contagiosa rispetto ad altri virus in circolazione a livello mondiale. In altri paesi europei e negli USA però la variante Delta non sta crescendo come in Inghilterra e questo ci fa ben sperare sull'andamento del contagio in Italia. Il fatto di essere in estate fra l'altro ha aiutato molto, ha spiegato la dottoressa Ricci, per quanto riguarda i dati relativi al Veneto. Ad oggi noi abbiamo depositato nel database internazionale e in quello nazionale 1182 sequenze. Siamo la prima regione d'Italia giunto per numero di virus sequenziati a livello nazionale. In Veneto sono state trovate tutte e quattro le varianti più contagiose e preoccupanti. Le abbiamo tutte in Veneto come tutte in Italia, l'inglese, l'indiana, la sudafricana e la brasiliana. Abbiamo caratterizzato anche delle altre varianti che non sono preoccupanti, sono di interesse. Variante egiziana e variante del Camerun da tenere sott'occhio. Ad oggi in Veneto è prevalente la variante inglese con 28 casi trovati, ma ci sono anche 22 casi di variante Delta legati ad un focolaio scoperto in provincia di Treviso in uno stabilimento produttivo che però è stato subito circoscritto ed è ora sotto controllo. Grazie a tutti.